Ha perso il lavoro da oltre un anno e trovandosi in difficoltà economica ha pensato di rapinare la farmacia a 500 metri da casa. È successo lunedì scorso alle 13.30 in via Giolitti a Pesaro dove Salvatore Arceno, 45 anni, sorvegliato speciale, ha fatto irruzione con il volto coperto da un passamontagna e un ombrellino in mano per ripararsi dalle telecamere. Disarmato ha intimato alla titolare di consegnargli l'incasso, ha rubato 1000 euro e poi è fuggito a piedi. L'uomo originario di Torre del Greco ma residente a Pesaro è stato comunque ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti della squadra mobile, confrontando quelle immagini con le registrazioni del mattino, hanno notato che alle ore 10 era entrata in farmacia la stessa persona, Arceno. A rivelare la sua identità è stato il suo strano modo di camminare. L'uomo, con la scusa di chiedere informazioni su un farmaco, si era recato nel locale per capire meglio come agire durante il colpo. Ha detto che la videosorveglianza sicuramente è importante, ma di certo come in questo caso è stato fondamentale il fiuto investigativo. Essenziale entrambe le soluzioni. La videosorveglianza è perché ci dà un dato obiettivo, una ripresa, un particolare e la nostra attività investigativa, l'intuito, il fiuto, permette di completare il sillogismo, quindi di completare e di mettere, per così dire, di chiudere il cerchio. Il 45enne, già noto alle forze dell'ordine per una tentata rapina e reati legati allo spaccio, è stato rintracciato a fano a casa della donna che sta frequentando e dopo 4 ore di interrogatorio ha ammesso le sue colpe, affermando di essersi liberato del bottino e degli abiti che indossava quel giorno, gettandole all'interno di un camion per la raccolta dei rifiuti. L'uomo che ora si trova in carcere è stato arrestato per rapina aggravata e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale della Polizia di Stato. Abbiamo avuto l'abilità di scoprire tante rapine. Per i furti è una nota dolente a livello nazionale, però i nostri dati statistici ci dicono di una leggera flessione e questo ci conforta. Ma ripeto, l'attività investigativa dà una risposta conclusiva a tutto quello che può essere un allarme in sicurezza, un allarme della collettività.